Loredana Leciso provoca Romina, ennesimo schiaffo alla cantante Erano davvero settimane che Loredana Leciso non condivideva nulla sui suoi canali social, particolarmente in compagnia di Albana Infatti, in tanti si chiedevano che fine avesse fatto la subretese con il maestro tutto procedesse a gonfie vele Nel giorno di Pasqua, però, l'imprenditrice Salentina ha voluto fare un augurio a tutti coloro che la seguono pubblicando una foto che togliesse ogni dubbio, ovvero accanto alla sua dolce metà Loredana Leciso e Albano felici come due ragazzini tra Loredana Leciso e Albano possiamo confermare che tutto procede alla grande La coppia dopo un periodo buio e burrascoso, durante la prima fase del lockdown si è ritrovata e ora è più felice che mai A confermare la loro serenità, una foto postata proprio nel giorno di Pasqua Nello specifico, la 49enne ha condiviso uno scatto in bianco e nero dove si mostra insieme al maestro Carisi nella loro tenuta a Cellino San Marco La stessa che a pochi metri ha ospitato nello stesso giorno anche Romina Paller, Cristel e Romina Jr., nella casa di Iari Ovviamente l'immagine in questione ha scatenato i fan della coppia ma ha anche lasciato molto libero il pettegolezzo Loredana Leciso e Albano felici come due ragazzini tra Loredana Leciso e Albano possiamo confermare che tutto procede alla grande La coppia dopo un periodo buio e burrascoso, durante la prima fase del lockdown si è ritrovata e ora è più felice che mai A confermare la loro serenità, una foto postata proprio nel giorno di Pasqua Nello specifico, la 49enne ha condiviso uno scatto in bianco e nero dove si mostra insieme al maestro Carisi nella loro tenuta a Cellino San Marco La stessa che a pochi metri ha ospitato nello stesso giorno anche Romina Paller, Cristel e Romina Jr., nella casa di Iari Ovviamente l'immagine in questione ha scatenato i fan della coppia ma ha anche lasciato molto libero il pettegolezzo Musica 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 Musica